Il Duce e i membri della missione del Manciucuo presenziano in piazza di Siena il mirabile saggio di capacità atletica e di preparazione militare offerto dai giovani italiani residenti all'estero del campo Mussolini, aperto col rito dell'alza bandiera. Il Duce e il Duce e il Duce Il Duce e il Duce e il Duce. Il Duce e 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 il Duce Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.